Il prossimo governo, quale sarà il primo provvedimento per Napoli e per il Sud sul lavoro? L'azzeramento della legge Fornero, che fa bene a Napoli ma fa bene a tutta Italia, perché mandare in pensione chi lavora da 41 anni significa aprire quegli spazi di lavoro ai giovani, ai ventenni, ai venticinquenni, ai trentenni che altrimenti vivono di precariato a vita. Quindi se lei mi chiede quale sarà il primo provvedimento che Matteo Salvini porterà in Consiglio dei Ministri, se gli italiani ci voteranno, perché c'è di mezzo il voto degli italiani, l'azzeramento della legge Fornero e l'avvio di quota 41.